Come facciamo a sapere che il Natale sta per arrivare? Non si vede con gli occhi perché i giorni e le notti sono sempre gli stessi e gli uomini vivono e lavorano come sempre. Non si può sentire con le orecchie perché è sempre uguale il rumore intorno a noi, le macchine, gli aerei che passano, i bambini che urlano. Quattro settimane prima del Natale succede qualcosa di molto importante. Un grande angelo viene giù dal cielo per invitare gli abitanti della terra a preparare il Natale. Ha un vestito viola in tessuto di silenzio e di pace. La maggior parte della gente non lo nota perché ha da fare tante altre cose ma l'angelo canta con una voce profonda e solo quelli che hanno il cuore attento possono sentirlo. Lui canta il nostro dio viene a visitare il cuore dell'uomo aprite la porta. Grazie a tutti.